A Corner siamo all'indomani di un'alta prestazione incolore, derudente, assolutamente sottotono del Catania. Ne parleremo questa sera. Angelo, stiamo appena iniziando, non bisogna essere aggressivi subito. Mi piace il trono. Allora, parleremo di Monterosi-Catania e non solo. E lo faremo con Angelo Patanè, con Alessandro Vagliasindi. Bentrovati. E noi ben trovato anche al nostro super commentatore Carlo Breve, che ci accompagna in tutte quelle che sono le vicende di Catania. Chioggia è una maglietta che è significativa. Vicende tecniche. Ha una Sicilia, un pesce spada, chissà che significa. Non abbiamo finito ancora. Vado da Naomi. Buonasera a te Naomi. Buonasera agli amici e amici a casa. Vi ricordo il numero per commentare con noi, con tranquillità e senza menzionare le sette generazioni precedenti a chi commenteremo assieme. Ah, quindi insomma abbiamo già dato le prime coordinate. Ci sono già i primi messaggi, perché il telefono stasera in linea WhatsApp è particolarmente calda. Direi di cominciare su... Si rincorrono voci. Si rincorrono voci sui social di tutti i tipi. Io ribadisco quello che abbiamo detto oggi alle due e mezzo durante il primo corner. Domenica al Massimino, in panchina, ci sarà Luca Tabbiani. Benissimo. Intanto abbiamo dato questa notizia. Poi vado subito... Poi Angelo, scusami, era la stessa notizia con la quale ci eravamo confrontati noi a fine puntata di ieri. Avevamo tutti quanti ritenuto all'unanimità che Tabbiani sarebbe rimasto alla guida del Catania, qualunque fosse stato il risultato. Perché lascia perdere che è stato un pareggio, in fondo potremmo dire un punto in media inglese. Ma le modalità equivalgono ad una amara sconfitta sul piano. Anche perché se è vero che il... Quello che abbiamo detto noi adesso non so Alessandro, ma se il migliore in campo per quanto ci riguarda... È stato Betters, ecco anche per te. Ma è stato chiaro, no? Alla fine della partita era chiaro. Siamo di fronte a due terzi di sconfitta contro una squadra cadavere galleggiante che però è riuscita a dare quel colpo di pinna e con quella spada ad affondare e a non farci affondare definitivamente sono state le parate di Betters. Non c'è alcun aereo prenotato da Rolando Maran per domani il Catania? No, perché già è stato avvistato a Catania ti voglio dire, Alessandro. Abbiamo messaggi... Abbiamo fatto le nostre dovute verifiche. Comunque la notizia a Monte che esclude tutto il resto è che Tabbiani fino a domenzi è l'allenatore del Catania. Oh, benissimo. Adesso vado da Carlo. Carlo è un allenatore, quindi vive di calcio, sa come funzionano queste cose, le dinamiche. È chiaro però che a questo punto del campionato siamo quasi a un terzo del campionato. Mancano un paio di partite. Il ciclo si chiuderà, credo, un paio di partite per un terzo con il recupero della partita del Brindisi. Staremo praticamente... potremmo fare veramente un'analisi profonda. Ma si può fare anche adesso, piuttosto seria. Questo Catania non è quello che ci si attendeva, sicuramente. Sicuramente un avvio molto deludente e ieri sono emerse delle lacune che non avevamo visto, o almeno io non avevo visto, nelle prime otto partite, dove tutto sommato l'andamento, anche se non era stato eccellente, una sufficienza si poteva dare. In quest'ultima partita è veramente stata, dal punto di vista proprio temperamentale, tattico, come qualità di gioco sicuramente molto insufficiente e molto deludente. Carlo, scusa, il lunedì ti avevo chiesto, in vista del Monterosi, se a tuo avviso Tabbiani poteva o meno tornare al modulo con la difesa a quattro o restare sulla difesa a tre. Tu eri convinto che sarebbe tornato a quattro ieri? Se avesse giocato Silvestri poteva sicuramente scegliere la difesa a quattro. Sì, questo atteggiamento confermato anche contro il Monterosi non è un segno di eccessiva paura, di preoccupazione, così, rivista a posteriori chiaramente. Sicuramente le cose non stavano andando benissimo prima di Taranto, non c'è ombra di dubbio. La sconfitta di Castellammare è stata una sconfitta pesante, che ha infranto un po' quelli che potevano essere i sogni di riavvicinamento alla zona alta della classifica e lì col Taranto cambiando il sistema di gioco aveva trovato quantomeno degli equilibri, la squadra non era scollata, era abbastanza equilibrata e anche senza fare una grandissima prestazione, me l'abbiamo detto più volte, aveva trovato una vittoria da squadra senza subire mai o quasi mai delle ripartenze. Quindi ci sta pure che l'allenatore riconfermi il sistema con cui ha vinto la partita precedente. Il problema è che non si è visto un Catania che voleva vincere. Io non ho visto una squadra, non ho visto un 11 che voleva portare a casa i tre punti. I tre punti lì erano stati... Su un bassoio d'argento. Non sono stati posti su un bassoio d'argento, era semplice portarli a casa con un po' di cattiveria sportiva, con un po' di voglia di andarla a vincere, la partita si sarebbe... E con me non ti metto l'imbarazzo, però te la faccio subire la domanda. Domenica si gioca con Lavellino e Tabbiani ha lavorato per sette settimane, per sette partite, mettiamola così, su un sistema di gioco, difesa a quattro e con i tre centrocampisti e i tre del fronte offensivo. Per due partite abbiamo spiegato probabilmente anche il perché, il primo pretaranto, l'emergenza, poi invece la considerazione a priori che comunque potesse essere un sistema più equilibrato che invece ha dimostrato delle lacune. Ma una squadra che adesso si trova di fronte a questo bivio, soprattutto l'allenatore, ritorna nuovamente a quattro, la gioca a tre, quella con Lavellino, non stai giocando ovviamente con il Monterosi, stai giocando con una delle squadre più in forma di questo campionato, in una situazione di grande diffidenza e non di costilità, perché penso che al Massimino comunque quando scendono in campo i colori ross-azzurri, chiunque ci sia in panchina, intanto durante la partita la gente sta lì e tifa per il Catania, dopo ti chiama a raccolto ovviamente, o per applaudirti o per contestarti, ma durante la partita non ci sono mezze misure, conosco i tifosi del Catania e hanno una grande maturità, ma quantomeno devi mettere in conto una grande diffidenza. Come la giochi? Allora, come la gioco? Io ho lavorato, come hai detto tu, sette partite su un sistema tattico, è il mio sistema tattico, io mi gioco la partita decisiva per la mia panchina col mio sistema tattico. Il problema del Catania in questo momento è che a metà campo ci sono tante defezioni. Rientra a Rocca domenica, Quaini diciamo che torna a essere pienamente disponibile. Con i due rientri, secondo me lui può decidere di giocarsela di nuovo 4-3-3. Ti ha dato la risposta? Sì. Allora, prima di andare avanti... Andando a vedere gli scempiti ieri. Prima vorrei sentire le prime impressioni da casa, vado da subito da nome. Allora, iniziamo con questo messaggio che mi piace perché è aleatorio, non c'è un obiettivo preciso. Scrive, 14.000 abbonati in Serie C devono far capire a qualcuno, ogni riferimento a persone o cose puramente casuali, cosa significa allenare e giocare a Catania. Peppe Caruso da Gravina. Poi, Angelo, c'è un messaggio del tuo benzinaio. Il mio benzinaio. Luca, Luca il benzinaio, scrive, buonasera, un saluto a Gagliano da Luca il benzinaio. Cosa aspetta la società a mandare Gabbiano, che vabbè, sicuramente errore di battitura, Gabbiano, e prendere lo zio Pasquale Marino, pattene i cavalli. E lo zio non prendere più. E lo zio non prendere più. Ma io è a Bari, comunque, già allena, appena subentrato a Bari, a Mignani. E diciamo pure che non era uno dei profili ipotizzati da questa società. Cioè, l'allenatore alla Pasquale Marino, allenatore che ha vinto parecchio, ha maturato determinate esperienze, ma che probabilmente ha un'applicazione sul campo. Questa, diciamo, è la teoria sulla quale si è fondata poi la scelta di Tabiani. Applicazione sul campo che è probabilmente ricca di esperienze passate, ma probabilmente scarsa di proiezioni nell'immediato futuro, non era la scelta di questa società. Volevano un allenatore giovane, con proiezioni, uno che lavorava 24 ore al giorno sul campo. La scelta è stata di Tabiani e al momento questi sono i risultati. Torniamo da te, Fra, non molto, a meno che non hai un messaggio subito, veloce, veloce. Subito, subito. Buonasera, dove è la società? Ho dato l'interpretazione. Salvo da Trecastagno. Scusami, scusami. Dove è la società? Dove è la società? Mi hai detto uno breve, questo. Hai fatto benissimo, aspettavamo. In realtà noi aspettavamo per questa sera che qualcuno venisse qui a parlare a Corner, ma evidentemente in questo momento ci sono delle valutazioni in corso, si sta riflettendo e allora speriamo che alla fine arrivino poi delle decisioni importanti. Angelo, è ovvio che in questo momento, in questo calderone, è inutile nasconderlo. L'obiettivo sul campo è Tabiani, ma ovviamente il risvolto invece più globale riguarda questa società, riguarda Grella, riguarda l'impianto di lavoro voluto proprio da Grella. Allora, Angelo, questo è un ragionamento, diciamo, piuttosto lungo. No, ma Angelo ha detto una cosa, secondo me, molto intelligente e voglio aggiungere, secondo me ci sono allenatori bravi sul campo, a lavorare sul campo, ce ne sono altri bravi a lavorare anche fuori dal campo, quindi magari la figura di Pasquale Marino come allenatore, di grande esperienza, di quel profilo di allenatore è una figura ingombrante per una società, è una figura dove chiaramente va magari a incidere molto sul mercato, sulle scelte di mercato e su tante altre scelte. Carlo, però non è soltanto una figura ingombrante, è una figura anche costosa, quindi bisogna capire se nel budget del Catania rientra anche la possibilità di prendere un allenatore di questo target. Come diceva Carlo, magari Tabbiani ti dà un'immagine durante la settimana di un lavoro fatto bene, di idee, eccetera, ma come dicevo oggi durante l'anteprima corner, la bravura dell'allenatore è quella di saper incidere durante la partita, al cospetto di difficoltà, di contingenze dove devi metterci mani e quindi io in queste nuove partite, francamente, partite in cui Tabbiani ha veramente inciso sulla partita in corso, non me ne ricordo, correggetemi se sbaglio, in nessuna delle partite che a finora ha disputato il Catania mi ricordo una… In corso d'opera. No? O no? No, in corso d'opera assolutamente no. Qualcuna ha preparata bene e c'è stata, Alessandro. Però poi dico, al momento dell'avversità non ha trovato lui la contromossa. Invece l'aspetto… E questo secondo me è un limite insuperabile, cioè oggi se io penso che Tabbiani non è l'allenatore adatto al Catania, lo valuto sotto questo aspetto, perché magari sarà bravissimo. Azzori era bravissimo, almeno a detta di tutti, lavorava in maniera e in cemina, però poi in panchina non riusciva a trasferire queste sue conoscenze alla squadra quando serviva in quel momento… Era questo il senso della domanda che ho fatto ieri a Tabbiani. Non so se si chiede una tante qualità che un allenatore deve avere, oltre a incidere durante la partita, che è importantissimo, saperla leggere, fondamentale, ma l'empatia che devi creare col gruppo, il mordente, cioè la squadra rispecchia un po' il carattere sempre del proprio allenatore. Ieri Carlo, perdoni, quando di fronte a certi episodi di egoismo clamoroso, che hanno poi incondizionato il risultato, un allenatore che è presente alla situazione, che ha tutto sotto controllo, tre secondi dopo prende quel giocatore e lo sostituisce, per dare un esempio e per dare un segnale alla squadra. Alessandro, ieri… Ne abbiamo parlato con Angelo, eravamo qua in diretta, di fronte a quegli atteggiamenti di grande egoismo. Leziosismi. Con Carlo cosa abbiamo detto, cosa ho detto. Non solo l'allenatore incide, lo prende, lo mette al palo. Non solo di grande egoismo, ma anche situazioni dove c'è stata molta superficialità. Leziosismi, leziosismi. Io ho letto delle situazioni, i difensori con leggerezza, con troppa superficialità. Carlo, ma la cosa dipende? Infatti loro hanno guadagnato terreno, hanno guadagnato situazioni, coraggio. Si sono incoraggiati. Soprattutto hai risvegliato una squadra che era morta. Noi siamo andati in paura e loro si sono incoraggiati. L'esatto contrario di quello che doveva essere. Ma Alessandro, il problema è… Per la prima volta ho visto di queste lacune e questo è una cosa grave. Però guardate che ieri il Catania ha subito per tutto il secondo tempo il Monterosi. Cioè il problema, ieri diceva Tabiana a fine partita, che gli ultimi 20-25 minuti aveva visto la squadra in difficoltà. In realtà il Catania ha dato possesso palla e ha dato campo al Monterosi per tutto il secondo tempo. E poi il primo non è che sia stato proprio… Ma non è stato più squadra. Il Catania non è stato più squadra. ha smesso di fraseggiare, di coprire bene il campo, di aiutarsi. Andavano ognuno così, abbracciano. È inevitabile. E loro hanno sicuramente lasciato tanto spazio al Catania. Ma certo. Il Catania ha avuto delle situazioni incredibili che devi concretizzare. No, devi chiudere la partita. Le vedremo, le vedremo. C'è stata troppa sufficienza, poca cattiveria per chiudere la partita. Vediamo allora. Siamo un po' in ritardo stasera. Stiamo iniziando. Andiamo in pubblicità. No, dobbiamo vedere subito la partita. Dobbiamo vedere cosa è successo, perché stiamo parlando. Facciamoci un male. In questo momento non abbiamo visto nulla. Vediamo nel montaggio di Ottavio Longo che cosa è successo ieri. We'll be righte. Grazie a tutti. 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 Tosto ha preso il secondo, ovviamente magari negli ultimi secondi di partita o addirittura ci ha rimesso un uomo, vedi l'espulsione Silvestri. Taurino ieri ha fatto una cosa importante. Guardando quello che era stato l'andamento, guardando quello che era stato l'andamento, lo score assolutamente deficitario di sei sconfitte, maturate quasi tutte poi con gol presi nell'ultimo quarto d'ora della partita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. vorremmo passiamo passiamo in vantaggio. assolutamente nulla, tanto è vero che il gol che arriva dopo la parata importante di Betters e questo diventa un altro campanello d'allarme che dalla panchina, sicuramente anche dalla squadra in campo, andava letto immediatamente. la parata di Betters è quello che deve far venire l'alarme rossa a tutti quanti i giocatori del Catani. e c'è il quinto cambio, perdonami, che matura proprio in quei frangenti, Sarau per Bocic, quando c'era Quaini in panchina, c'era Silvestri, quindi comunque se vuoi chiudere completamente i varchi, fai un cambio conservativo, visto già che hai percepito le difficoltà, perché l'hai detto a fine partita, di aver visto negli ultimi 30 minuti la squadra in paura, proprio in funzione del fatto che lo hai percepito, fai un cambio conservativo, non c'è vergogna. arriva anche Maffei, però ti serviva una zona a coprire da dove ha tirato Palazzino, paradossalmente, in occasione del gol, o un Quaini messo là davanti, o Silvestri messo davanti ai due centrali, perché no? Alla fine della partita, il tecnico del Catania, Tabbiani, che Quaini era lì per onore di firma, c'è Silvestri, non c'è discussione, assolutamente. Non c'è discussione, ed è paradossale. Andava rimpolpato sicuramente il centrocanto. Se noi rivediamo il gol della Monterosi... Adesso lo rivediamo, abbiamo una serie di episodi da vedere. C'è troppo un avoraggi, la Di Retti e Zammarini, troppo avoraggi. Sono i momenti chiave della partita, perché la partita comincia subito, Alessandro, con... Non sto rivedendo perché l'ho chiamato io, ma è inquietante il... Ma è la dinamica anche di come avviene questo gol. Lo spazio di cui gode questo ragazzo nel 2003. Ma non soltanto Alessandro, diciamo, guarda cosa succede. Qui Ecuban fa il furbo su Lorenzini, ma lo fa bene, e crea poi questa sponda. Palazzino calcia praticamente come se è giovedì, come se è allenamento e partitella del giovedì. Non ci può stare, una squadra che sta vincendo fuori casa a un paio di minuti dalla fine. A 30 secondi dalla fine. Ero a 30 secondi dalla fine. Sili può arrivare in tribuna, come minimo. Viene fatto fallo, si ferma il gioco, non si può fare crossare così facile. Adesso riavvolgiamo il nastro, abbiamo visto il gol. Siamo partiti dalla coda, ricominciamo dall'inizio e vediamo come inizia questa partita. Perché in realtà il Catani inizia la partita proprio con l'azione come è finita. Vedete, subisce un tiro dalla distanza e Betters deve andare. E' la prima azione da Moviola. Eccola qui. Cioè praticamente il Catani ha iniziato la partita come l'ha finita. State vedendo. Con Betters che si distende e va a prendere questo pallone. Con tanta libertà di tirare ancora una volta dalla distanza. Vogliamo parlare delle situazioni ambientali tra l'altro. Perché ieri situazioni ambientali ottimali. Giocava in casa il Catani. Cioè più che in casa giocava davanti a una platea di poche centinaia di persone. Si contano a decine i tifosi del Montelosi-Tusch. A decine perché devono fare due ore e mezza di macchina. Se il traffico sul raccordo anulare non è particolarmente intenso. Perché altrimenti chi le va a guardare? Figli, mariti, mogli, amanti e qualcuno così di famiglia. O la moglie o l'amante. O la moglie o l'amante. Dipende da una parte all'altra. Ma cambia poco. Si parla di decine di persone che vanno a vedere questa partita. Eppure partono 200 da Catania. Con le aspettative di andare a vedere comunque finalmente il primo inizio. Quello di cui parlavi. Di filotto del Catania. Quale migliore occasione? Hai vinto col Taranto. Giochi con una squadra che le ha perse praticamente tutte. In un campo. In uno stadio molto bello tra l'altro. Sul sintetico. Quindi non ci sono scusanti di nessun genere. Davanti al tuo pubblico. Perché quello è il tuo pubblico. Non puoi rappresentare 95 minuti di quello scempio. E questo sul piano emotivo è certamente una condizione che evidentemente neanche l'abbiamo ancora capito. Perché tutte le interviste dice dobbiamo capire qual è la situazione. Qual è l'errore. Dove sta ancora Brancola nel buio. Però un fatto è evidente. Due sono i fatti evidenti. Il primo. Che è una squadra che gioca un calcio lentissimo. Lentissimo. È un calcio teoricamente bello. Se gli aumenti i giri. E da 33 giri lo porti a 78 giri. Parlando di musica di una volta con il vinile. E quello può diventare un calcio bellissimo. Lo vuoi dire in Champions League. Stasera siamo nostalgici. Esatto. C'ha portati a questo ragionamento. L'altra. Il coefficiente di infortuni muscolari. Che alla decima giornata di campionato. È una mattanza. Nove giocate. Ma siamo davvero quasi a un terzo del campionato. Non ha più ragione d'essere. Siamo tornati ai tempi di Ventrone. Assolutamente sì. Forse peggio di Ventrone. Vorrei sentire di nuovi tifosi da casa. Tra l'altro c'era una domanda. Tra i messaggi che ho letto. Perché non si è puntato su Fabio Caserta come allenatore. E perché Grella ha scelto Tabbiani. Ma in tempi non sospetti. E è rimasto su questa scelta. Fino poi all'ufficializzazione. Sentiamo. Partiamo con questo messaggio. Perché sapete che domenica la partita verrà trasmessa su un emittente nazionale. E scrivono. Sulla Rai. Sulla Rai. Ah lo posso dire? Non mi licenzio. Sulla Rai. Penso proprio io. Domenica. Speriamo che le telecamere inquadrino solo le curve. Almeno si ricreano. Perché se inquadrano la partita. Amala con bassa è Parigia. Continuiamo. Salve a tutti. Ho una domanda. Come mai non si è optato per Caserta? Allenatore giovane. Ho appena risposto. Ho appena risposto. Infatti ero concentrata a leggere quello che ho letto prima. Ma cosa è successo? Sei nella nostra stessa stanza? Dove sei? Io ogni tanto spengo l'audio del mio cervello. Se lo ammetto. Abbiamo una squadra da metà classifica. E i risultati confermano. Con un allenatore da metà classifica. Bisogna ammetterlo. Buonasera. Secondo me quest'anno il Catania farà un campionato di metà classifica per una salvezza tranquilla. Almeno per quello che si è visto finora. Scrive Francesco. Peccato che a pagare è sempre uno. E chi decide la sorte di un allenatore sono sempre i giocatori. Questo non mi piace. Ma sono come sempre deluso di questi giocatori che prendono in giro i tifosi. Parliamoci chiaro. La dirigenza sa di aver sbagliato nella scelta di alcuni giocatori e allenatore. Ma presuntosamente non lo cambia perché vuole dimostrare che hanno ragione loro e pertanto si deve aspettare perché il Catania risorgerà. Ne riparliamo dopo Catania-Avellina. Siamo a meno uno allora. Confermiamo quel famoso meno uno. Il trittico. Il trittico. Buonasera. Non bisogna giudicare l'allenatore e tutto lo staff che non funziona. Dov'è Pelligra? Perché non comincia a prendere per venire? In Australia. Molto bello studio. Avrebbe detto probabilmente. Chi lo sa. Basta. Esoneriamolo. Casomai ci metto i soldi. Maxi Liotro. Corrisponde Maxi Liotro eventualmente quanto potrà costare un esonero. Dovete smetterla di usare Tabbiani come capro e spiatorio, scrive Vera. Comunque Tabbiani è la sconfitta della società giovane e nuova in certi ruoli. Per gli errori di programmazione anche dopo tanti non ricevuti tipo Essere, Mastino e Gori. Hai altri messaggi? Ne ho 244. Cioè torniamo agli episodi. Volevo soltanto precisare che ieri le presenze poi alla fine sono state i 250. Dei tifosi del Catania. Dei tifosi del Catania. Di mercoledì. Di mercoledì. A Teramo. Cioè difficile. Avete visto dove è Teramo? Arrivarci? Per chi magari si vede. Devi girare. Il posto è meraviglioso, bello. Ma arrivare a Teramo significa davvero metterti sulle spalle un viaggio autentico che ti potrebbe portare tranquillamente, non ti dico in Svezia o probabilmente a Londra. Però a Londra abbondantemente. No, abbondantemente a Londra. Ci arrivi molto più facile che andare a Teramo. E quindi sì, a meno che non lo fai ovviamente con l'aereo. Ma anche con l'aereo devi farti una bella scampagnata. Di mercoledì non era probabilmente quello che si aspettava. Torniamo a vedere un po' di immagine della partita. Prima di questo, Angelo, scusami, a proposito della trasmissione della partita Catania-Vellino in diretta sulla Rai, credo che sia stato anche un fattore volto a consolidare questa prospettiva di vietare la trasferta ai tifosi dell'Avellino. In considerazione del fatto che c'era la partita in chiaro, in diretta e quindi magari addolciscono la pillola, dando la possibilità ai tifosi dell'Avellino di poterla vedere in chiaro sulla Rai. Allora speriamo che per Avellino-Catania faccio l'altrettanto. Allora vediamo un po' per tempo di invertire. Intanto vediamo le altre azioni. Andiamo alla traversa di Bocic perché un po' di sfortuna c'è. Abbiamo visto una bella azione di Ciccio Rapisano. Quello è bravo. Una bella azione veramente, fatta bene. Bravo Ciccio. Perché ha la personalità di andare a puntare l'uomo, non ha paura di rischiare la giocata. Sfortunato Bociccio perché fa una bella conclusione. Qua c'è un pizzico di sfortuna che quest'anno... Unici regni, unici regni non sono davvero, sono la Guinness deprimati. Sono tanti. Però ci sono situazioni sfortunate. E qua l'Ari è coperta anche bene. Sono quattro giocatori del Catania dentro l'Ari. Una delle poche cose buone fatte ieri. Che coinvolgono a volte anche giocatori, allenatori. Io con grande affetto ricordo sempre Maurizio Pellegrino. Che è stato un bravo allenatore. Uno che veramente ci ha messo e ci mette l'anima. Ma poi è un amico, no Maurizio? Assolutamente sì. Ma era sfigato forte. Maurizio è riuscito a perdere praticamente un campionato. Nel momento in cui gli sarebbe bastato un pareggio che aveva maturato fino agli ultimi minuti. eppure poi disattenzione al portiere, palla all'attaccante. Lui che stava portando alla salvezza una squadra, gli è andata male. A volte quando i cammini dicono no, dicono no. A volte cambia anche la volta. Maurizio lo ha fatto. Il pizzico di fortuna ci vuole sempre. Ci vuole sempre. Vediamo adesso invece il gol del Catani. Che poi in realtà è un autogol. Ieri ha fatto tutto il Monterossi. Eh sì. Giordani. E pareggio. Eccolo qui. Giordani grida la tocco piano e batte il suo portiere. Diciamo l'esecuzione è perfetta però. Sì. Un disastro. Allora, Monterossi è una squadra che aveva preso 20 gol con quello di ieri. Con un portiere, ragazzo 19 anni, portato alla Roma, buone speranze, probabilmente anche qualche aiutino, che male non fa. Una linea difensiva che era francamente, lo dicono i numeri, una sorta di collabroco, un po' perché ovviamente è una squadra che non può avere grandi ambizioni. Ragazzi, parliamo sempre di una squadra che gioca, pur avendo le strutture vicino casa, perché tutto sommato dall'altro lato, no. Ci sono campi, ci sono strutture. Hanno preferito invece andare in direzione diametralmente opposta, avrebbero potuto giocare a 15-20 km da casa. Perciò, una squadra che è sperimentale, mettiamola così, linea difensiva, che ne ha presi 19 prima del giorno di ieri, senza un centrale difensivo di ruolo perché vittima anche di infortuni, con tutti quei gol presi era davvero la condizione perfetta, idea. E l'autogol di ieri, seppur sfortunato, perché poi tutti gli autogol sono ovviamente frutto di grande sfortuna nella perfettissima esecuzione del colpo di testa, che sarebbe stato molto più così importante se fosse stato di un attaccante, però rappresenta la pochezza di questa squadra. E pensare che di fronte a una situazione del genere, quindi prendono la traversa, il Catania, ti fai il gol da solo, e lì doveva esplodere il Catania e doveva implodere completamente il Montelosi. Abbiamo visto invece una partita diametralmente opposta e soprattutto non abbiamo visto nessun tipo di reattività in campo. Torniamo di nuovo alle occasioni. Ce ne sono state, è vero, il Catania ieri qualche occasione alla Uca. Ne vediamo adesso... Ma per inerzia, Angelo, non perché c'è stata una condotta di gara. Sì, sì, torniamo all'egoismo con cui abbiamo esordito in analisi della partita. Questo è egoismo. Ma lui deve aprire, ma molto prima, per Bocic e va in porta. Guarda Bocic dopo cosa fa. Guarda, guarda, vuole per dire. Ma io ho visto anche a un certo punto Chiricò a terra che si disperava dando pugni a terra perché Dubiscas non gli aveva passato il pallone. Carlo, scusami. Sono cose che abbiamo visto, non ce le stiamo inventando. Da allenatore. Un giocatore giovane ti fa una cosa del genere e tu sei in panchina. Perdonami, che fai? No, chiudi, devi chiudere la partita lì. No, che fai? Tu allenatore cosa fai? No, dimmelo. Dillo, parlami. Lo appendo dentro gli spagnatori, lo appendo al muro, è chiaro. Cioè, non si può giocare col... Così? Ma è chiaro. È chiaro. Carlo è uno bravo, tra l'altro. Si chiama breve, ma anche bravo. È anche uno buono. Anche quando era d'allenatore, però uno, posso dirlo, di polso. Mi piacevo rispettare il mio modo di fare, insomma. Ma pensa, voglio dire, allenatori che abbiamo avuto a Catania senza andare a... Ma credo che anche lui si sia arrabbiato parecchio. Io ritengo che... Ti arrabbi parecchio. Che dentro lo spogliatoio abbia tuonato. Però dobbiamo parlare... Non lo possiamo sapere. Ci dobbiamo dire le cose in maniera chiara. Sono passate nove partite. È un quarto di campionato. È mezzo girone. Cioè, in nove partite... Io non ho visto un progresso. Ho visto un regresso costante. Abbiamo perso tre partite su nove, che è un numero enorme per una squadra ambiziosa. Cioè, questa è una squadra, in questo momento, impresentabile per le aspettative della piazza, perché partiamo dal 19 marzo con la promozione matematica in Serie C. Cioè, in questi sette mesi, si è andato proprio a disperdere un patrimonio di entusiasmo che era enorme, sovrabbondante. Non so se sei d'accordo. Ed è questo uno degli argomenti che noi non vogliamo glissare. Abbiamo parlato... Un accenno l'ha fatto Gugliano prima. Perché ovviamente la difficoltà attuale dell'allenatore è, a specchio, la difficoltà sulla credibilità di una società. Adesso è ovvio che puntare l'allenatore, probabilmente, per quello che si vede in campo, è la scelta più immediata. Non vorrei, non vorrei che in tanti non ricordassimo, perché tutti commettiamo errori. Io, tu, chiunque. No, magari anche Grella. No, magari ne avrà commessi parecchi. Però ricordiamo che questa è una società che ha salvato il Catania ci ha condotti nuovamente in Serie C con un bagaglio di esperienza di un campionato, con le incertezze e con le scommesse su un futuro. Ma l'idea di Tabbiani è stata un'idea pensata, giusto o sbagliata? Al momento è sbagliata. Ma è stata un'idea pensata di progettualità, di programmazione, con un budget che ovviamente, secondo me, doveva essere inizialmente sicuramente più ampio rispetto a 2 milioni e 500 mila euro, così si dice. Siano stati 3 milioni circa messi a disposizione di Grella e company dalla proprietà, probabilmente in attesa di determinati eventi. Io reputo che questa società... Che però non conosciamo. Che andavano... Siamo esplicitati per una questione di trasparenza. Alessandro, ma qua... Siamo rimasti così sul... Ma... Ma che sta succedendo? Il proprio ragionamento... Siamo arrivati... Sugli errori. A oggi... Probabilmente. Sulla scia di, secondo me, di una mancanza... Di comunicazione. Di comunicazione in certi momenti. E allora, volendo interpretare, ovviamente non avendo dati a conforto, ma ritenendo che questa potesse essere una soluzione, ovviamente c'è un bagaglio di non esperienza sulla comunicazione. È chiaro, è evidente. No. Spieghi ai tifosi qual è il progetto. Spieghi ai tifosi qual è quello che al momento la proprietà ti ha messo a disposizione. E spieghi, probabilmente, come io penso, ma è un mio pensiero personale, che, in base all'andamento del giorno d'andata, giorno di ritorno, avrebbe comportato con la gestione ormai acquisita dello stadio, che non è una cosa da poco. Perché pensiamo sempre che... È finita la trasmissione. Ok, no. Chi viene all'Australia... Hai ragione. Hai ragione. Però chi viene all'Australia, pensiamo che abbia soltanto una serie di fantasmilioni di dollari, o di euro, da investire su Catani. Non è così. E ci mancherebbe il calcio... Oppure, fammi dire un'altra cosa collegata a questa. Se, evidentemente, c'è stato alla fine un budget inferiore rispetto a quello che magari ci si poteva attendere, secondo me non è stata una buona scelta quella di aver smantellato completamente la squadra dell'anno scorso, dove, a mio avviso, ci potevano essere altri profili in grado di dare una continuità, all'ossatura di quella formazione e su quella poi innestare quei 5-6 tasselli per magari alzare qualitativamente il livello. Anche perché, Angelo, scusami, in queste partite la vecchia guardia, Betters, Castellini, ieri Lorenzini, Rapisarda, Figurone, Rizzo. Si sono comportati bene. Figurone, Rizzo. Si sono comportati bene. È quasi la continuazione di un messaggio... Non l'abbiamo ancora visto Chiarella. Esatto. Non l'abbiamo ancora visto Chiarella. È quasi la continuazione di un messaggio che parte dall'anno scorso, ma che secondo me è stato troppo presto coperto dal nuovo. Alessandro, posso darti... Che sono arrivati nell'ottica comunque... Marsura è comunque sulla carta, è un lusso per il Catania. Chirico è nell'ottica degli investimenti sul campo, è un lusso. Io vorrei vedere questi giocatori probabilmente allenati... Parlo di uno che mi è rimasto nel cuore che non c'è più, da Sinisa Mialovic. Per darti un'idea. O da Lucarelli. Esatto. Oppure da uno che è presente. No, che c'è ancora. No, da Cristiano Lucarelli. E allora probabilmente staremmo qui tutti quanti a tessere le lodi. Mi aggancio a quello che dici tu. Io mi aggancio proprio a queste tue dichiarazioni. Io vorrei sentire sabato, nel pre-partita, Tabbiani non parlare più di idea di gioco, di passaggio lento, di azione lenta. Dobbiamo essere più... Vorrei sentire Tabbiani che dica oggi, domani, deve giocare una città contro l'Avellino e noi dobbiamo rappresentare questa città. Questo è il messaggio che oggi Tabbiani deve dare alla squadra. Mischi in campo non si percepisce. Finora non si è percepito. Non l'ho mai sentito. Cioè per molto meno Giovanni Ferraro si è ingabbiato in un'idea di gioco che è troppo orizzontale. Dobbiamo verticalizzare sicuramente di più. Il gol contro il Tanto arriva non per i 18 passaggi, arriva per la verticalizzazione di Ritz. Bua attacca la profondità con cattiveria, la palla viene contesa, poi c'è il passaggio. Poi c'è la giocata del singolo, importante. Vorrei sentire sabato Tabbiani che inciti i suoi ragazzi a una partita con il sangue agli occhi. Vorrei prendere un calcio di rigore, il primo. Se entri in aria di rigore, primo o poi te lo prendiamo un calcio di rigore. Allora, mi fermo, anche perché so che avrà un centinaio di messaggi in attesa, forse anche di più. Quindi possiamo fare, fino alla fine della trasmissione, solo messaggi. Buona serata a tutti. Ci fermiamo adesso e poi torniamo con altri episodi della partita. Ci sono le grafiche da vedere e i messaggi da sentire e da leggere. Allora, torniamo di nuovo insieme. Alessandro, subito da te. Una consigliazione insieme a Carlo. 25 luglio inizia il ritiro a Zafferana. Oggi 25 ottobre, diciamo, 26. Dopo tre mesi di preparazione una squadra riesce già a esprimersi atleticamente su performance alte? Cioè, un lasso di tempo sufficiente? O ci vuole molto più tempo? Lo chiedo a un allenatore. No, il tempo è sufficiente abbastanza. Cioè, è oltre che sufficiente. Ci mancherebbe. E quindi se il Catania va a questa velocità? A sua scusante c'è che sicuramente tanti giocatori sono arrivati. No, però gli ultimi sono arrivati a fine agosto. Cioè, l'ultima sessione di mercato dove è arrivato Silvestri, Beli e poi Zanellato. Però, dico, il 90% dell'organico era formato ai primi di settembre. Dico, dai primi di settembre al 25 ottobre. Si può fare un lavoro tale da portare la squadra a una condizione generale migliore di questa. Deve essere in condizione già la prima del campionato. Cioè, non ci sono dubbi. Quindi è legittimo chiedersi se questa è una condizione atletica deficitaria, quella che stiamo vedendo nelle partite ufficiali. Non parlo degli infortuni. Parlo della velocità di crociera. La condizione fisica. Quella dipende anche dalle caratteristiche dei calciatori. C'è qualcuno che è una fibra lenta, qualcuno che è una fibra veloce. Sicuramente ci aspettiamo di più. Per esempio, Angelo ha detto di Marsura, lui è un giocatore, secondo me, che può dare così quello che dà Chiricò dall'altro lato. Lui lo deve dare da quel lato. Lì è una questione più, secondo me, di personalità che di struttura fisica. Perché ha lo strappo. Lo strappo c'è la bocic, è un fibra veloce bocic. Qualcun altro, qualcuno, sono delle fibre lente e sicuramente le fibre lente non diventeranno mai veloci. Ma come livello medio tu come vedi questa squadra fisica? Dal punto di vista della condizione fisica. Come livello medio, lasciando perdere le individualità? Al di là degli infortunati, in maniera sufficiente. Al di là degli infortunati. Non credo sia un problema di condizione fisica, Alessandro. No. È un problema di tanti infortuni che derivano dal fatto che... Questo già, ieri lo avete approfondito voi. L'idea è di gioco, di non ingabbiarci in quest'idea di gioco così particolare. Ma come cambi l'idea di gioco a distanza di due giorni, come non c'è l'Avellino? E ovviamente adesso, per dirla tutta, nei confronti di Tabbiani, oggi Tabbiani è davvero in difficoltà. Gli manca di Carmine. Allora Angelo, in tutte le categorie, io non ho fatto i professionisti, li ho fatti da calciatore. Quindi ho avuto tante esperienze con tanti allenatori, con profili sicuramente qualcuno all'opposto dell'altro, ma sicuramente dal punto di vista temperamentale, sia Busetta che Pavadopulo, non erano inferiori sicuramente né a Miai, lo vicene tanti altri, insomma, da questo punto di vista. E io ho trasmesso sempre alle mie squadre, ho avuto la possibilità di allenare squadre di grande qualità tecnica, se prima non mettiamo la stessa fame che hanno gli avversari, partite non ne vinciamo. Quindi, pari fame, così come tutti gli avversari, con le nostre qualità le partite quelle le andiamo a vincere. Ma se non hai la rabbia, la cattiveria e la fame degli avversari, partite non ne vinci mai, Angelo. Ma a proposito di qualità, sì, perdonami, perché la discussione... Ragazzi, lo capisco, è... Però non possiamo... Non possiamo... A proposito di qualità, siamo sicuri che questa è una rosa qualitativamente così forte come ci è stato detto a inizio stagione? O cominciamo legittimamente a porci dei dubbi sul valore effettivo di questa rosa? La rosa al completo, al netto degli infortuni, uso un vocabolo di Angelo, è una rosa di qualità. Posso farti la domanda al contrario, Alessandro? Perché altrimenti così noi confondiamo la gente. E allora, perdonami, facciamo il nostro mestiere e ce lo facciamo per intero. No. Qualunque rosa sia quella che tu stai leggendo nella formazione del Catania, è una rosa che va a giocarsi col Monterosi-Tuscia, ultima in classifica, e pareggia dopo aver segnato un autogol e si lascia pareggiare. Assolutamente no. E allora partiamo da un dato ponderale. Il dato ponderale, che è la partita di ieri, è un fallimento tecnico, tattico, stilistico, di approccio mentale. Poi, possiamo dire che... Ma se andiamo ad analizzare le nuove partite, quella rosa che pensavamo fosse massimamente competitiva, ha espresso quei valori? Alessandro, quella rosa... Indipendentemente dagli errori che ha fatto l'allenatore. Alessandro, questa rosa competitiva, abbiamo sempre detto che però la Serie C, ne abbiamo fatte troppe di queste partite. sappiamo che puoi fare una formazione della Serie A e avere difficoltà in Serie C. Diamo per buona l'approvvigionamento a rate di questa squadra, l'esperienza che ancora va da farsi di una società che ovviamente si è approcciata al calcio dirigenziale da poco. Diamo pure per buona la circostanza che sono arrivati alla spicciolata quasi tutti, proprio perché è legato a un concetto di budget, non perché non ci abbiamo pensato. Stringiamo perché fra poco non arriviamo da nessuna altra parte. Ci dobbiamo fermare. E allora qualunque squadra possiamo immaginare il Catania al netto, non dico degli infortunati, ma al netto delle partite giocate doveva giocarle sicuramente meglio. Puoi perderle? Meglio. Puoi vincerle? Meglio. Puoi pareggiarle, ma non quella col Montero si trisce. Bene, allora, torno da Naomi e dopo torniamo a vedere un po' di calcio e vediamo un po' di grafica anche lei. Quando dico che si sia... Ce l'hanno con tutti, intendo proprio tutti tutti, ora pure con i video di presentazione dei giocatori. Scrivono, le aspettative le ha create anche la società con le proprie dichiarazioni, con i video presentazioni e quando qualche giornalista ha detto vedete che la campagna acquisti che avete fatto non è ad altezza, quasi quasi, saruffano. Ancora, bisogna essere onesti ed equilibrati. O chi è l'attesa del gruppo, o chi è l'attesa del gioco, ma i video in stile Manchester li hanno fatti loro. Ok il marketing è vendere abbonamenti, ma poi succede anche questo e si fanno delle brutte figure. Quando si adottano certi schemi di gioco bisogna avere giocatori di grande spessore. Filosofia da tiki-taka, ma lenti come delle tartarughe, scrive Carmelo. Ciao a tutti, come mai siamo più capaci a criticare che a elogiare? Un po' di self-control, fate i bravi, insomma, vi vogliono ammanzire stasera. Ieri la partita l'ha fatta il Catania, non ha chiuso la partita, ma questo è un fatto di testa, non abbiamo messi Ronaldo in C, è un fatto anche di casualità che fa le differenze nel calcio. Noi siamo aperti ad ogni tipo di interpretazione, quindi leggiamo quello che arriva. Giocavamo contro il Monterosi. Contro il Tuscia, per gli amici. Scusate, parlate di allenatori, lo massacrate che deve essere esonerato, ma la società dov'è? Perché non si presenta a dire la sua? Proprio in questi momenti si deve vedere la società e discutere. Noi stamattina, fino all'ora di pranzo, abbiamo insistito, abbiamo cercato, in questo momento evidentemente la società... Ti parla con Grella. Eh, esattamente, perché in questo momento l'unico interlocutore chiaramente in questa fase deve essere l'uomo apicale di questa società. Io credo che sia l'unico e il migliore in grado di poter dare una lettura del momento. L'unico che può, in un certo senso, chiarire molti aspetti e soprattutto in questo momento rinsaldare gli animi in attesa che il Catania domenica vinca con l'Avellino. Allora, aspettate. Non voglio pensare ad un'alternativa a questa vittoria. Aspettiamo che queste parole possano diventare realtà. Ancora due messaggi, Naomi. Vado. Da abbonato dico che fin quando resterai in panchina Tabbiani io non andrò più allo stadio, scrive Gaetano. Chiudiamo con una massima zen della filosofia. Antonino scrive non puoi fare delle cose buone se prima non hai fatto degli errori. Quindi, insomma, bisogna chiaramente bisogna sbagliare. Bisogna i bambini quando incominciano a camminare capo. Marzulliana questa frase. Molto, va bene. Allora, adesso chiudiamo il discorso riguardo alle occasioni. Eravamo arrivati a Dubiscas che ha mancato il gol col contropiede. Ah, siamo ancora alla partita. Andiamo veloce, Angelo. Ce lo dobbiamo vedere. Abbiamo fatto tanto lavoro. Chiricò che qui non la vogliamo qui ha mancato diciamo diciamo eccolo qui poteva essere un'occasione. Qui diciamo che ha fatto secondo me il massimo purtroppo questione di centimetro. Vediamo un altro tiro. Eccolo sempre quello di Chiricò. Adesso vediamo quello di Bois che devo dire non era una bella giocata però poteva servire al centro il compagno da lì è quasi impossibile fare gol. È quasi impossibile fare gol con il portiere in uscita. Bastava diciamo dare una palla un metro avanti troppo defilato e mettere la palla forte per Dubicas la butta dentro. E poi un premio lo diamo a Betters con il prossimo filmato perché mi pare che il Catania ha fatto una cosa davvero importante. Guarda che cattiveria hanno loro guarda 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 che reattività e noi invece sì e qui non ci suona il campanello questa è la cosa la cosa grave. Qua fa Sarau-Bocic eh capito? Qui non ci fa praticamente poco dopo fa Sarau-Bocic non ci fa saltare il massimo livello di attenzione perché hai capito che la partita c'è l'episodio di Chiricò sì Chiricò vediamo Chiricò questo è proprio veramente non si può non si può commentare cioè qui uno come Chiricò deve fare gol ma proprio tutta la vita mi pare che poi non abbiamo altro abbiamo visto già il gol del Monterosi quindi chiudiamo questa parentesi sulla partita adesso apriamo quella di quello che sarà Alessandro perché ricomincia andiamo a vedere abbiamo un minuto prima della prossima sosta da cosa partiamo calendario partiamo dal calendario facciamoci del male facciamoci del male perché la situazione non è per niente rosa non è per niente tranquilla rosa sempre più scarna e impegni sempre più fitti ravvicinatissimi fra altre cose dobbiamo dire anche che il Messina stasera ha perso la partita in casa con il Brindisi ha perso 1-0 ci sono stati quasi 9 minuti di recupero e alla fine Brindisi in 10 chiedo scusa il Messina ha perso in casa se possiamo tornare un attimo sulla grafica del calendario per appunto renderci conto che poi il Catania tolto la partita di Coppa Italia dell'8 novembre avrà tre trasferte consecutive di campionato per il recupero con la Brindisi dell'1 novembre la partita qui manca la partita di Potenza eh sì che viene il 5 quindi c'è Brindisi Catania l'1 il 5 Potenza Catania l'8 Catania Vicerno di Coppa Italia ma il 12 ancora campionato terza trasferta contro il Cerignola per poi tornare al massimino il 18 novembre contro la Turris la Turris la famosa Turris o con una o con due non lo sappiamo quindi diciamo che c'è solo 20 giorni abbondanti di quelli proprio davvero difficili riguardi un attimo il calendario per farti anche se non è completo vabbè dopo l'1 novembre c'è il 5 Potenza Catania la questione è che davvero domenica può essere la chiave di volta di Tabbiani e del Catani mi amore in positivo perché nessuno di noi vuole che ovviamente il Catania cambi un trend o che non valorizzi probabilmente una scommessa che aveva bisogno di tempo però Catania-Vellino diventa uno snodo fondamentale perché diventa anche un salto nel buio perché a quel punto devi trovare non voglio immaginare un risultato diverso da una vittoria ma se così non dovesse essere o se la partita dovesse essere un po' come quella con il Monterosi è normale che da lì a pochi giorni devi cominciare ad avere le idee chiare su cosa fare o ti metti davanti alle telecamere e spieghi la ragione per cui mantieni serrata la guida tecnica o altrimenti devi cambiare l'allenatore perché a quel punto insomma la bomba ti esplode nelle mani mi auguro che tutto questo non avvenga e che anche sia probabilmente il trampolino per questo Catania e me lo auguro per tutti quanti e per quei 14.000 che leggo lì perché vedi qual è il problema quando hai fatto un buon lavoro quando hai sponsorizzato bene il tuo lavoro perché hai vinto un campionato hai ridato la possibilità a una città di vedere il calcio è un progetto importante che voglio lo stadio è davvero lavorato nell'ottica di sentirti un catanese e poi quindi una città che ti risponde con 14.000 abbonati hanno in questo momento più di ogni altro momento più del momento delle vittorie bisogno di avere il conforto il confronto con chi oggi vive una situazione di disagio e difficoltà troppo facile parlare ai tabbiani avremmo voluto parlare in termini costruttivi con Grello ci fermiamo ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo fra poco e poi vediamo le pagelle perché dobbiamo vedere queste pagelle a fra poco come promesso torniamo in studio adesso le pagelle subito da Naomi iniziamo con il migliore nonché top del match lui Klaus Betters voto 7 scriveva di Asindi lo difende un terzetto inedito ma quando è chiamato in causa se la cava alla grande senza mai enfatizzare l'importanza dei suoi efficaci interventi a 5 minuti dal termine mura di puro istinto bitante e sembra il sugello su un altro clean chat ma Palazzino gli rovina la festa con un tiro irraggiungibile stiamo guardando le pagelle ma c'è una grafica che ci mostra proprio il migliore della gara e fra poco la vedremo eccola qui questa esatto dopo aver visto all'opera entrambi i portieri la titolarità della maglia spetta a ragazzo Lettone e questo chiude il cerchio sugli ex l'anno scorso abbiamo parlato i giocatori che l'anno scorso hanno fatto bene sono stati confermati però un avvocato difensore della società direbbe ma li abbiamo mantenuti noi e quindi di che cosa ci stiamo parlando adesso abbiamo mantenuto i migliori abbiamo mantenuto Rapisarda abbiamo mantenuto Betters abbiamo scommesso su un altro portiere Livieri ci siamo accorti che forse ci avevano rifilato così un portiere forse non pronto al momento poi c'è stato l'infortunio Marossotto dico un nome Jefferson dico un altro te dico un altro nella nell'economia di una rossa è in quest'ottica De Luca perdonami in quest'ottica Marco Palermo Palermo è voluto andare via è andato via ho capito però lo dico non credo che un Catani ha deciso si faccia scappare un ragazzo insomma che aveva dimostrato parliamo quando uno vuole andare via per carità però parliamo di un concetto generale su cui poi andiamo a innestare il particolare delle singole storie sulla carta no non è che si sono stati presi anche De Luca è rimasto però è rimasto ma è rimasto in margine e a questo punto io reputo che invece la società correrà a riprendere un po' il rapporto con De Luca perché col popò di infortuni che ci sono anche perché pare che non sia stato convocato per alcuni allenamenti fatti male questo è quello che dice la società ma questo è quello che filtra ovviamente quindi non dovrebbe essere una cosa irrisolvibile questa frattura sarebbe stato difficilmente risolvibile se avessimo vinto non c'erano tutti questi infortuni assolutamente vediamo allora le pagelle completiamo abbiamo visto il migliore ora le pagelle completiamo un attimo ci arriviamo fra un istante alle pagelle continuiamo la nostra discussione la nostra disamina a proposito di quello che qualcuno da casa ci sta scrivendo l'osservazione che ci fanno è questa ma se sono rimasti 7-8 giocatori dell'anno passato l'osservazione che fanno è ma che cosa è stato smantellato smantellato lo spirito di una squadra che esprimeva quel senso di appartenenza quella catanesità di cui parlava prima quindi non si è saputo ricreare io non vedo in questa squadra questa stessa alchimia non la vedo le condizioni sono comunque completamente diverse sono diverse ma lo spirito lo cogli al di là della categoria al di là della partita il caro spettatore ha detto in quattro parole la cosa migliore è una gran vergogna pareggiare con il Montelosi ieri è una gran vergogna attenzione però non voglio fare l'avvocato di nessuno però guarda ci sono grandi squadre che perdono anche con l'ultima classifica d'accordo io ricordo che il Lecce retrocesso fece perdere lo scudetto alla Roma se non ricordo male però ragazzi il calcio è anche bello lo ricordiamo anche per questi motivi quindi ci sono anche da fare queste prendiamoci queste riflessioni il Brodino il Brodino Purgante finalmente torniamo alle pagelle torniamo alle pagelle Dolori Dolori partiamo dall'allenatore lui Tabbiani che si aggiudica un bel 4 continuiamo con Betters il migliore del match quindi voto 7 in difesa Curado voto 5 Lorenzini voto 6 e mezzo parlando degli ex l'anno scorso parlando degli ex 4 e mezzo per Mazzotta andando in centrocampo 6 a Rapisarda stesso voto per Bua che entra durante il cambio 6 per Rizzo 4 e mezzo per Ladinetti 5 e mezzo per Zammarini a Marsura voto 5 e mezzo a Castellini voto 6 fermati Noemi mi fermo che sono Naomi tranquilli vuoi vedere che tutte queste sufficienze agli ex dell'anno scorso è perché viaggiano sull'onda lunga di un messaggio che gli è arrivato proprio nella scorsa stagione cioè sono allenati ad essere giocatori del Catania mentre quelli mi sono sforzato di dire questo allenati al di là delle considerazioni opposte che hanno fatto i nostri telespettori mi sono sforzato di dire questo forse non sono stato chiaro no no sei stato chiarissimo però ne approfittavo delle tue pagelle per dire che gli allenati ad essere del Catania sono stati sono stati ad essere del Catania da un altro allenatore sono i migliori in campo seppur scelti come diciamo d'appoggio in una categoria superiore gli allenati dalle superiori da squadre superiori che dobbiamo vedere anche il prossimo avversario solito insufficiente continuiamo con Chirico e Dubiscas in campo di se giudicare un bel 4 di Carmine senza voto per il poco minutaggio 6 e mezzo a Bosic e anche Sarau senza voto bene allora vediamo mi pare che c'è poco da commentare abbiamo detto che la partita non è stata granché il giudizio è in linea il voto in linea 6 e mezzo a Bosic ci può stare ma quel passaggio all'ultimo probabilmente glielo avrei Bosic era di Dubiscas scusami 4 Dubiscas per Bosic perdone 4 Dubiscas beh vediamo adesso il prossimo avversario visto che siamo in dirittura del rivo Alessandro non allunghiamo la puntata non allunghiamo non possiamo allunghare la puntata anche perché dopo c'è il giornale andiamo su Lavellino vediamo se la regia ci dà la grafica sul prossimo avversario suspense arriva arriva il prossimo avversario tranquilli abbiamo preso in esame il rendimento esterno dell'Avellino sono 4 le gare disputate lontano dal Partenio 2 a vittoria e 2 sconfitte con una sconfitta sotto la gestione Rastelli a Castellammare di Stabbia mentre nelle successive 3 gare esterne sotto la gestione Pazienza ha vinto a Sorrento e a Caserta e ha perso a Messina per 1 a 0 in queste 4 partite ci sono stati 3 gol degli Irpini e 2 gol subiti i migliori marcatori sono Sgarbi che ha già realizzato 4 reti e Gori obiettivo di mercato del Catania la scorsa estate Gabriele Gori con 3 reti insomma una squadra che nelle ultime partite è incominciata a correre ha corso e soprattutto ha dimostrato carattere perché molte gare le ha risolte o all'ultimo minuto o all'ultimo minuto o al recupero come ieri ha battuto il Cerignola al 96esimo per 1 a 0 anche questo insomma è il segno che è una squadra in grande fiducia e quindi prima di tutto arriverà in campo con una condizione mentale sicuramente migliore di quella del Catania il Catania avrà il compito di invertire quest'inerzia giocando la partita che deve giocare Patanè no leggevo un minuto perché poi vado da 9 che il Catania la vincerà con l'Avellino 2 a 0 e via e fuori i gufi vabbè voglio dire poi l'aspettativa del tifoso Angelo qual è? quella di vedere vincere la sua squadra non c'è nessuno a Catania che voglia vedere perdere il Catania domenica contro l'Avellino Tabbiani una brava persona una persona che anzi a volte ci fa anche un pizzico di tenerezza anche quando ci dà delle risposte particolari se abbiamo problemi muscolari non è colpa del preparatore perché altrimenti tutti avrebbero lo stesso problema muscolare però lo capiamo capiamo il momento emotivo dell'allenatore è chiaro che poi rimangono riserve su quello che è stato il cammino finora al Catania ma nessuno vorrebbe uscire sconfitto domenica contro l'Avellino anzi vorremmo che per la prima volta il Catania iniziasse un ciclo perché un altro degli elementi strutturali in negativo di questa squadra che tutte le volte che inizia un ciclo poi lo interrompi e lo interrompi nel peggiore dei modi l'interruzione di ieri assomiglia a tre quarti di sconfitta lascia perdere che il medio inglese vale un punto all'intrasferta no non lo avrebbe a nessuno arrivi da una situazione ottimale puoi iniziare un filotto puoi giocartela con l'Avellino e puoi consentire a Grella dire avete visto abbiamo vinto con il Taranto abbiamo visto vinto con il Monterosi abbiamo vinto anche con l'Avellino da quel momento in poi Tabbiani prende fiducia del gruppo la gente prende fiducia del Tabbiani il gruppo crede in Tabbiani lo scherma e allora probabilmente inizia un campionato importante e invece tutte le volte il Catania ha iniziato a iniziare dopo Caserta 4-0 la partita con Latina tutte le volte ci riporta subito alla dura realtà e cos'è qual è il bru e ho finito Angelo tranne che allunghiamo la trasmissione no non possiamo allungarla abbiamo un minuto che tutte le volte che succede questo domenica ci auguriamo di vincere con l'Avellino il problema è che non abbiamo scongiurato la partita successiva non abbiamo scongiurato le perplessità i dubbi e soprattutto i timori della partita successiva speriamo una pillola su Rolando Maran che è stato oggi al centro diciamo di tante voci nostro amico abbiamo già detto che non c'è nessun aereo previsto per domani qui a Catania per Maran però è giusto dire che quando il Catania ha festeggiato la promozione dalla D alla C lui aveva in animo di venire a vedere le partite della Puls Cudetto al Massimino e non è venuto poi insomma ha cambiato programma ma diciamo l'ultimo contatto anche se a distanza tra Maran e il Catania risale al mese di maggio non quello tra Maran e noi perché devi sapere se ne sentite nel pomeriggio da qualche ora con Rolando ama tantissimo vado da Naomi vado da Naomi perché abbiamo un minuto di messaggi vado un minuto di messaggi buonasera se continuiamo così lottiamo veramente per la salvezza ancora tolti di Carmine e Chiricò non è che il resto degli acquisti così come il valore sia stato sopravvalutato scrive un ex allenatore non si segna per egoismo vedi l'azione Dubiscas e Boscic l'uno doveva servire l'altro non è da professionisti Carmelo da Catania abbiamo sbagliato il 2 a 0 5 volte ma di che si ragiona ah poi questo messaggio mi ha fatto ridere Naomi perché non giochi tu domenica al centro del nostro attacco rosso-azzurro perché a me la palla mi sembra una cotoletta quindi non ho altre spiegazioni poi scrivono questa squadra pari chi darò giovedì tra scapoli e ammogliati scrive Luca da Catania poi un appello a tutti i tifosi ragazzi domenica tutti della nord facciamo capire che devono onorare la maglia Manuel da Catania hai tempi perfetti Naomi un minuto e un minuto è stato ma non chissate parlare la ringraziamo grazie per essere stata con noi anche stasera grazie a Carlo Breve grazie Angelo grazie a Alessandro Magliasindi a voi grazie non l'allunghiamo la puntata non l'allunghiamo anzi già siamo oltre un minuto oltre grazie ancora noi ci ritroviamo con Corner lunedì ma domenica saremo ancora insieme a voi a partire da 15.30 con Diretta Stadio per seguire la partita inizia alle 16 la partita comincia alle 16 tenuta mimetica e noi cominciamo alle 15.30 benissimo grazie c'è il telegiornale a lunedì con Corner grazie a tutti